Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 29 luglio, vediamo quali sono i temi della giornata. Intanto due interviste di peso, almeno così rispetto ai personaggi che le rilasciano, cioè il vicepresidente del Consiglio Gigi Di Maio alla Corriera della Sera e il capo dell'opposizione, uno dei capi, non so come definirla, il ruolo di Forza Italia, diciamo dell'opposizione marginale oppure della benevola opposizione, come volete voi, comunque conta poco, insomma Silvio Berlusconi sulla stampa. Di Maio, partiamo da Di Maio, dice bisogna ridiscutere la TAV con i francesi, cioè il Corriere che ieri non si era reso conto, l'altro ieri non si era reso conto con l'intervista di Massimo Franco proprio a Conte che l'unico tema fondamentale era quello della TAV, mentre tutti gli altri giornali parlavano della TAV, oggi titola proprio sulla TAV che nei giorni scorsi aveva sottovalutato, vabbè piccole questioni giornalistiche che non sto a raccontarvi. Subito il reddito di cittadinanza dice Di Maio e oltre al reddito di cittadinanza la flat tax, molto divertente la questione e questa domanda mi sembra intrigante sulla fiducia al decreto dignità, gli chiedono, ma scusate voi avete sempre criticato le fiducia ai decreti, soprattutto a quelli finanziari, dicono, scrive, chiede l'intervistatrice a Di Maio e sentite la risposta perché è un monumento dell'ipocrisia italiana. La fiducia sul decreto? Certo, se ci sono 2000 emendamenti che vengono fatti dalle lobby del gioco d'azzardo, allora forse saremo costretti a metterla, ma non la metteremo perché comunque non le faranno questi 200 emendamenti. Cioè lui decide la fiducia perché? Perché se gli altri sono le lobby del gioco d'azzardo, perché loro fanno una battaglia sacrosanta, sempre buona, sempre giusta, sempre corretta, sempre etica e gli altri sono sempre delle teste di minchia e questo è il concetto e quindi se sono tali allora si può fare. Non so come dirvi, adesso poi difenderò il governo nella scelta di FOA, però questo atteggiamento etico che sono sempre dalla parte del giusto eccetera, forse sono tutti i politici, ma come ce l'hanno questi giallo-verdi, soprattutto i grillini, è insopportabile. Intervista al Cavaliere, diciamo, sulla stampa è forse ancora più inutile di quella di Di Maio perché l'unica cosa che dice che questo governo cadrà è che ci dobbiamo preparare le elezioni, quindi più che una notizia si tratta di una previsione che fa, ciao Corrado, di una previsione che fa l'ex Presidente del Consiglio che vediamo se si avvererà e temo, secondo i sondaggi, se si dovesse avverare certamente. Giordano Riello lo vedo ora in collegamento, bello il suo pezzo, ieri non l'ho citato nella zuppa che ha scritto contro il decreto dignità, non contro il decreto dignità, contro quello che succederà col decreto dignità, mi sembra fosse sul libero di ieri, peccato non averlo fatto per il giornale, un saluto anche a lui, a Ugga tutti quanti voi, a Cecilia che è entrata ora. Allora, intervista di Berlusconi appunto che dice semplicemente vabbè, andremo a elezioni, vedremo soprattutto quanto prenderà le elezioni se si dovesse andare. Fontana oggi fa un fondo, il direttore del Corriere della Sera, insolitamente duro nei confronti di questo governo perché parla delle minchiate che sta facendo sull'Ilva, sui contratti, sulla Tav, sulla TAP, sull'Italia, insomma una grande posizione liberale che io condivido al 100%. Oddio il Cavaliere è ex casomai, io lo chiamo Cavaliere perché questa cacchio di ipocrisia di questi quattro scemi che hanno preso il Cavalierato e che la prima cosa che fanno è tirar fuori il Cavaliere Berlusconi a cui hanno leccato il sedere per 50 anni, ora fa ex Cavaliere perché è stato condannato, mi fa ribrezzo, ribrezzo, va bene? Ma comunque andiamo avanti. Fontana, quindi critica duramente questo governo, adesso ne parleremo Giorgio di Foa tra poco, e dice che vi è un'ideologia di governo improntata al sospetto. E io condivido al 100% questo pezzo del direttore Fontana, però il direttore Fontana gli chiederei di leggere quello che ha scritto il suo stesso giornale dopo tre giorni a proposito di ideologia improntata al sospetto, e cioè un pezzo di 60-80 righe del suo Dino Martirano nei confronti di Marcello Foa, mio collega del giornale, e che dovrebbe essere candidato alla presidenza della RAI, ma non ha la maggioranza per diventarlo. Secondo tutti i giornali in Commissione Vigilanza RAI, presieduta da un volto di Mediaset che proprio per garanzia è diventato presidente della Commissione di Vigilanza RAI, dovrebbe avere due terzi dei voti, quindi 27 voti, mentre Movimento 5 Stelle e Lega ne dispongono soltanto di 21. Quindi senza i sette voti di Forza Italia, difficilmente gli altri arriveranno su Foa, Foa non riesce a fare il presidente della RAI. Il cavaliere ha detto di no a Foa anche nella sua intervista perché non gli piace il metodo con cui è stato scelto. Dino Martirano fa questo pezzo dove non è che c'è il sospetto, c'è la cultura del sospetto che neanche Orlando nella Sicilia degli anni d'oro avrebbe potuto fare, e cioè comunque ha interventi spigolosi, si è fatto intervistare dal Corriere del Ticino, si è fatto intervistare cioè questa idea invece, no, invece voi non siete abituati di Maio da chi si è fatto intervistare, dal Corriere della Sera, non ha posto condizioni, lui si è fatto intervistare dal Corriere del Ticino, cioè un pezzo che gronda pregiudizio. Ma la cosa, e Burioni viene citato, Burioni detto anche Borioni, il quale dice delle cose sacrosanti sui vaccini o condivido tutto sui vaccini, ma lo dice talmente male che io quando vedo Burioni cambio canale. Burioni è la persona più insopportabile che esista sulla faccia della terra, è un vanitoso pallone gonfiato, insopportabile e purtroppo abbiamo dedicato a lui e abbiamo affidato a lui la battaglia per i vaccini, cosa sbagliatissima perché la scienza se ha la faccia di Burioni mi allontana dalla scienza. Burioni è una persona insopportabile e che vuole solo lucidare l'ego sui fan e i like di Facebook e a lui della scienza non gliene fotte nulla, questo è Burioni, quello che mi fece chiamare dal presidente della RAI dell'epoca perché non era contento come l'hanno trattato in trasmissione, Burioni. Allora sto Burioni ce l'ha con Foa per una stronzata che ha detto Foa e io sono d'accordo con Burioni, ma il tema è, compreso il giornale, che tutti vanno a prendere i tweet di Foa e tutti ricostruiscono un personaggio che sembra un personaggio, come posso dire, che non è Foa e questa è la cosa straordinaria, se io prendo pezzi degli articoli di 10 righe di Fontana, pezzi delle dichiarazioni di qualcuno, credo dei mostri, faccio un collage di mostri, Foa non è quella roba là, è il capo degli esteri con cui ho lavorato 20 anni al giornale e mi stupisco che Berlusconi, che è editore del giornale, Forza Italia che dovrebbe leggere il giornale, Maurizio Gasparri che mi sembra che conosca il giornale, come si chiama là, il capo della Vigilanza RAI che è un uomo Mediaset che leggeva il giornale, non abbiano letto Foa negli ultimi 20 anni, come ricorda bene oggi Franco Becchisi in un articolo che spiega bene che cos'è Foa, il montanelliano del giornale, Montanelli piace solo quando va la voce, quando diventa Foa non piace, perché Foa era il pupillo in politica estera di Foa, ce ne fossero di Burioni, no, ce ne fossero di meno, perché i vaccini non si difendono con l'arroganza di Burioni, si difendono con la saggezza della scienza, non con l'arroganza di Burioni, va bene? I vaccini non si difendono con quell'arroganza, si difendono con gli argomenti seri, legali, scientifici dei vaccini, non con quel modo di fare insopportabile di Burioni. Io sono per i vaccini al 100% e non voglio neanche sentirli i Novax, questo non c'entra che Burioni mi sta antipatico, può essere, può starci, va bene. Vado avanti, parte la caccia al suo tweet, diciamo, e lo dice anche io non sopporto Burioni, peccato che le abbiano dato domande. Va bene, l'altra cosa che vi voglio dire è che oggi a difendere Foa è incredibile, è soltanto Travaglio, il che a me mi fa veramente rodere, mi rode, mi rode da morire, che Travaglio sia l'unico che difende Foa oggi, oltre a Bekis, sui giornali italiani. Benissimo, Antonella, e Foa è libero, è un uomo libero, questo è il punto fondamentale, è la cosa per la quale non diventerà probabilmente presidente della RAI, perché non risponde a nessuno se non a se stesso. Repubblica rompe le balle, fa bene Travaglio a raccontare dei legami eventuali che avrebbe Foa con la Russia, quando fino a un mese fa pubblicava Russia Today, cioè la Pravda del Cremlino pubblicato su Repubblica e rompe i coglioni perché Foa ha partecipato a qualche trasmissione di Russia. Anch'io ci avrei partecipato se mi avessero invitato. E poi voglio vedere un'altra cosa amici, stiamo attenti, io voglio vedere, toglieranno Foa, perché non riusciranno a fare Foa probabilmente, voglio vedere chi metteranno la presidenza della RAI al posto di Foa. Mi auguro ancora che Foa ce la faccia, voglio dire, come Giordano, che oggi fa un pezzo molto interessante sulla verità, che si tira fuori un pezzo straordinario di Giordano, dice, mi candidano ai TG della RAI, ragazzi, io non ci vado in RAI, sto bene a Mediaset e voglio continuare a lavorare in Mediaset. E tutti quelli che lo chiamano per dargli aiuti, per le caglie ai piedi e tutto quanto è straordinaria la storia di Giordano, che non vuole andare a RAI e vuole rimanere a Mediaset e vuole continuare a lavorare alla verità. Però in questo, diciamo, in questa grande calderone voglio vedere chi arriverà al posto, semmai dovesse non essere eletto e soprattutto voglio vedere i sette rappresentanti di Forza Italia che non votano Foa, voglio vedere poi chi voteranno. Cioè fanno fuori Foa, giornalista del giornale per vent'anni, blogger del giornale, voglio vedere per eleggere chi ha la presidenza della RAI. Sui voucher è una roba imbarazzante, imbarazzante la storia dei voucher, il decreto di dignità che fa ancora e sempre più schifo e oggi c'ha bene, e lo dice bene, se esistesse il suo partito, c'è chi accusa Foa per aver condiviso l'immigrata con lo smalto, ormai Foa lo accusano anche di essere pedofilo. L'altra cosa che vi volevo raccontare è questa cosa straordinaria dei voucher, perché lì Forza Italia se facesse un po' più questo, mentre si occupasse di meno di Foa, forse recupererebbe qualche voto, racconta bene un suo parlamentare all'interno della Commissione di Lavoro, è incredibile come l'albergo di sette dipendenti può magari prendere qualche voucher, ma nessun bar, nessun ristorante lo possa fare. Insomma la ridicola modifica di questa legge sui voucher è ancora più ridicola del decreto dignità, Ryanair fa schifo, va bene? Allora insieme a me diciamo 1, 2, 3, Ryanair fa schifo, 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 perché quello che ha fatto nei confronti di 30 ragazzini italiani a Stansted a Londra è una cosa disgustosa, e se lì non ci fossero stati 30 ragazzini, ma ci fosse stato un politico, un commercialista, un Marcello Foa, non lo so, qualcuno che possa avere un po' di voce avrebbero fatto un casino, l'hanno messi su un aereo a Stansted, l'hanno tenuti per ore su quell'aereo, poi li hanno ritirati giù, e vabbè perché non è partito l'aereo, può succedere, li mettono a dormire, per 4 ore dormono, la mattina dopo li riportano, sono tutti tra i 13 e i 15 anni, li riportano, cioè sul Corriere della Sera questa storia, li riportano su un altro aereo, li fanno stare altri 2-3 ore su quell'aereo e poi li riportano a terra, però non gli ripagano più l'albergo, non gli ridanno neanche un voucher, a proposito di voucher per mangiare, li tengono ancora lì 4 ore, lo fanno per un terzo aereo, dopo 3 giorni li tirano su 3 aerei e anche il terzo giorno li ritirano giù da quel cazzo di aereo, 3 giorni sugli aerei, avendo dormito una notta sola per 4 ore, non avendogli dato neanche un coupon per prendersi un bicchiere d'acqua minerale, alla fine decidono i genitori ovviamente con la scuola di riportarsene in Italia via Pullman, via Pullman. Allora, Ryanair per una cosa di questo tipo dovrebbe essere denunciata, gli dovete togliere la pelle, non si trattano così i propri clienti, se mio figlio fosse stato su quell'aereo io avrei fatto un casino che ve lo ricordate fino a domani e lo voglio fare oggi con voi, perché questa è la dittatura di aziende di merda che trattano i clienti come se fossero bestie, va bene? Bestie, che schifo, Ryanair fa schifo, perché va bene che può aver portato tutti in giro per il mondo a 20 euro, a 9 euro, a 10 euro, ma la comportamento dell'arroganza alla Burioni che ha tenuto nei confronti di questi 30 ragazzini a Londra, 30 sconosciuti, è una cosa che mi fa venire il volta stomaco, ricordatevelo, avete un'alternativa? A parità di prezzo? Non prendete Ryanair, perché quello che io ho letto su questi ragazzini è una cosa per cui Ryanair dovrebbe chiedere scusa, invece di fare quelle sue pubblicità a prendere per il culo il mondo, i politici, l'Italia, Roma e tutti quanti dovrebbe dire scusatemi con quella faccia di minchia che ha il capo di Ryanair, dovrebbe dire scusatemi e allora le scuse si accettano e si continua a riviaggiare Ryanair, perfetta Ryanair, la grande democrazia dei voli, ma si chiede scusa perché quello che hanno subito questi ragazzini e che potreste subire voi è, come dice Luciana, una vergogna. Va bene, vi do un saluto, vi chiedo di condividere speriamo che non mi rompano le balle quelli di Ryanair anche in questa occasione, spero che foa diventi presidente della Rai, ma purtroppo ci conto poco. Ciao!